È stato scritto 100 anni fa giusti, è un canto contro tutto ciò che è razzismo, insomma parla di diritti civili. 100 anni fa è stato scritto ora, dopo 100 anni il problema c'è, è diverso, nel senso che è più velata la cosa, ma è lo stesso identico problema, ain't gonna let nobody turn me around, come on. Turn me around, turn me around, turn me around, ain't gonna let nobody turn me around, 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 ain't gonna let nobody turn me around, I'm just gonna keep on walking, keep on talking, marchin' down to Brunumland. Allora 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 non no 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 e 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